Peppa Di Bari, rigore parato contro il Pordenone, prima vittoria in Serie A, grandi emozioni? Sì, direi proprio di sì, è stato il mio forse terzo rigore parato, però il più importante di tutti per il momento. E cosa ti hanno detto le compagnie? Sì, sono stata brava, mi è piaciuto il gesto tecnico, la cosa più bella è stato il momento in cui sono corse tutte verso di me. Come avete festeggiato questa prima vittoria in Serie A? Sinceramente alla fine non abbiamo vinto niente, una partita, il campionato è lungo e se vogliamo rimanere c'è ancora tanto da lavorare. Adesso trovi il portiere più forte, il portiere nazionale, le chiederei la maglietta a fine partita? Non sono così fissata. A me piace giocare a calcio, gioco a calcio, ma preferisco giocarlo che guardarlo, diciamo. Sai che dall'altra parte troverai tante nazionali, non sarà un weekend troppo tranquillo per te probabilmente? Lo so, però come ho fatto sin da subito, o anche da 9-10 anni a questa parte, farò il possibile per poter vincere, o almeno dimostrare che valiamo, che valgo, però che si può fare. Lo pariamo un altro rigore? Sicuramente spero di non averlo un altro rigore, però... Sicuramente spero di non averlo un altro rigore, ma non averlo un altro rigore,